Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Preoccupanti sono i recenti dati riguardanti i casi di morbillo in Italia nel corso del 2024. L'aumento rispetto all'anno precedente ha destato l'attenzione degli esperti, incluso il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, noto soprattutto per il suo ruolo durante la pandemia di Covid-19. I dati, provenienti dall'Istituto Superiore di Sanità, confermano l'inizio di un'epidemia con un significativo aumento dei casi, raggiungendo quota 213 in soli tre mesi, rispetto al periodo precedente caratterizzato da un numero ridotto di casi. Bassetti avverte che il peggio potrebbe ancora arrivare, specialmente durante l'estate, e sottolinea che la maggior parte dei contagi riguarda persone non vaccinate o con una sola dose, soprattutto tra i 15 e i 40 anni. Il medico mette in guardia sulle complicazioni del morbillo, soprattutto se contratto in età adulta, e sottolinea l'importanza della vaccinazione come strumento fondamentale di protezione. Questa visione è condivisa anche dal professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, il quale evidenzia la necessità di promuovere campagne informative e di incentivare la vaccinazione per ripristinare la protezione collettiva. La situazione richiede un impegno proattivo da parte delle autorità sanitarie, in particolare per proteggere le categorie più a rischio, come i bambini. La vaccinazione emerge come l'unica opzione efficace per contrastare la diffusione del morbillo e proteggere la salute pubblica.